Sono con Antonello Ciavarelli, Presidente del Comitato Cittadino Taranto Redenta, per parlarvi di questa struttura dello stadio del nuoto per i giochi del Mediterraneo. Parecchie le criticità che tra pochi secondi affronteremo. Premetto e premettiamo che siamo favorevoli a che Taranto si doti di uno stadio del nuoto che resterà anche al di là dei giochi del Mediterraneo, però quello che ci urta è la ubicazione, la scelta di realizzare qui questo stadio del nuoto per una serie di criticità attinenti l'aspetto paesaggistico, l'aspetto archeologico. Presidente Ciavarelli, un'area che è stata data dalla Marina Militare al Comune di Taranto e il Comune di Taranto decide di cementificare per realizzare questo stadio del nuoto. Esprimiamo queste criticità. Il parere è che sicuramente uno stadio del nuoto sarebbe più opportuno in un altro quartiere e darebbe maggiore opportunità a quel quartiere. Parliamo di Polo VI, della Salinella, di Talsano e soprattutto non creerebbe problemi di viabilità. Seconda questione è che ci saranno tanti problemi nella costruzione perché c'è un dislivello di diversi metri, centinaia di metri e pensiamo che uno stadio del nuoto bisogna trasportare acqua a scendere e a salire, acque reflue, fogne e quindi ci saranno tanti problemi, probabili problemi per la costruzione. Ne va del buon senso, non solo il tecnico, ma ne va del buon senso perché se il campo scuola ci sono tre anni e ancora non si vede la luce, figuriamoci uno stadio del nuoto a zero metri dall'acqua, dal mare con i venti dominanti di Scirocco e le mareggiate, quindi quante interruzioni ci potranno essere. Anche se fosse stato pronto oggi saremmo già in ritardo perché bisogna vedere come risponde il territorio, il quartiere a quei eventi così importanti. Poi c'è l'aspetto paesaggistico che verrebbe deturpata, proprio la visuale, l'aspetto paesaggistico, una cosa da non sottovalutare. Sì, prima ancora direi l'aspetto archeologico perché qui ci sono sicuri reperti archeologici, c'è un terreno vergine e finalmente Taranto potrebbe avere un parco archeologico degno a delle termine di Caracallo o degno di Atene. Però quello che dicevi è la cosa forse più importante, la cosa che è inspiegabile, se per gli aspetti paesaggistici c'è una legge dello Stato che dice che non si può costruire a 300 metri dall'acqua, come è possibile fare uno stadio del nuoto a zero metri dall'acqua, due stadio del nuoto da 50 metri a zero metri dall'acqua? Presidente, tutte queste criticità circa due mesi fa, credo, furono da lei presentate in sede di commissione assetto del territorio, lei chiese di essere ascoltato per presentare queste problematiche, ero presente anch'io come componente della commissione in qualità di consigliere comunale, però alla fine purtroppo l'amministrazione evidentemente non ha recepito dai progetti è spiegato che all'interno si andrebbe in deroga grazie a una legge regionale perché è un bene di pubblica utilità, ma questo si può fare nel momento in cui non ci sono altre possibilità per costruire uno stadio del nuoto e invece come abbiamo detto ce ne sono tante. Per di più, quale garanzia abbiamo che rimanga questo stadio pubblico nel momento in cui abbiamo lo stadio di 25 metri che è stato ceduto a dei privati per decine di anni nella gestione, figuriamoci se saremo in grado di gestire due stadi del nuoto a zero metri dall'acqua per mantenerli e manutenerli. Quindi se mi posso permettere l'appello e diciamo al commissario ferrarese di non fare errori clamorosi perché poi non si debba dire che i cittadini magari fanno ricorso e fanno saltare lo stadio del nuoto quando qui ci sono tante perplessità nella costruzione e invece si potrebbe avere certezza della costruzione in altri posti migliori. E secondo a te Luigi, a voi componenti dell'opposizione, di fare il possibile per salvaguardare un bene di così suggestiva bellezza che deve rimanere di tutti. Per concludere l'amministrazione Melucci si sciacqua la bocca con la parola Blue Economy, un'economia che ruota intorno alla risorsa mare e noi che andiamo a fare? Andiamo a cementificare proprio davanti al mare. Una vergogna tutta Tarantina.